Dopo quasi un giorno intero di viaggio, le letture e le riflessioni, i 500 studenti toscani saliti a bordo del treno della memoria sono arrivati in Polonia, Oswiecim. Prima tappa del viaggio, il campo di sterminio di Birkenau, una distesa immensa di neve, silenzio e baracche al di là del filo spinato che separava la vita dalla morte, ad accompagnare i ragazzi insieme alla delegazione della regione toscana, i sopravvissuti come le sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate nel campo da bambine e tornate per poter raccontare quell'inferno, le visite alle latrine, alle baracche, al forno crematorio, poi il momento più toccante, la cerimonia davanti al monumento internazionale di Birkenau e la lettura a voce alta dei nomi dei deportati da parte degli studenti, un orrore uscito dalle pagine dei libri e vissuto in prima persona. Studiarlo sui libri sono parole parole, però ti colpisce abbastanza, però essendo qui c'è un'emozione veramente, cioè un peso. È veramente colpito e dato noia vedere il bunker dei bambini e vedere tutte le scritte sui muri con la scritta aiuto. Il freddo a Birkenau non è solo quello dell'inverno. Magari anche proprio il fatto della neve forse rende ancora di più l'idea, si sente proprio il freddo, anche il freddo delle persone che comunque dentro hanno organizzato tutto questo. È una cosa più forte di noi, è una cosa che ci travolge ed è veramente, non si può spiegare, bisogna essere qua e provare. Sulla loro intenzione, una volta tornati a casa, di consigliare a chi non l'abbia mai fatto un viaggio ad Auschwitz e i ragazzi non hanno dubbi. A loro spetterà il compito di raccontare. Sicuramente ne parlerò con il nonno, visto che a lui piace tanto la Seconda Guerra Mondiale e gli racconterò cose che lui non ha potuto vedere e che avrebbe voluto vedere, ma non è mai potuto venire qua. Consiglieresti questa esperienza a qualcuno che non c'è ancora stato? Assolutamente sì.